Musica Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Oggi sono qui con Umbel, lo vedete già qui nell'inquadratura Circondato da scatoloni, cioè libeato tra le scatole perché lui le adora In questo video voglio fare con voi degli spacchettamenti Ovvero il consueto bottega verde Ovviamente questa prima parte del video non mi vedrete perché sono praticamente in vestaglia Tra l'altro la vestaglia con i cuoricini, quella che ho preso da Primark Guardate che carina Visto che mi sono arrivati più pacchi insieme ho pensato di fare uno spacchettamento collettivo Mostrarvi anche l'ordine che ho fatto sul sito di Puma I contenuti in questo scatolone E poi oggi pomeriggio passerò da Zara a ritirare un piccolo ordine che ho fatto online Quindi aggiungerò una seconda parte a questo video, cioè li monterò insieme E vi farò vedere anche l'unboxing delle tre cosine che ho comprato su Zara Cominciamo da bottega E da bottega verde ovviamente ci sono i saldi Quindi c'erano parecchie cose scontate ulteriormente Allora qui abbiamo la file carta Tantissima carta ragazzi Rispetto alle altre volte credo che faremo un po' più velocemente Perché non ho preso tantissime cose Innanzitutto ho voluto comprare il bagno doccia alla vaniglia nera Questo era sempre a 3,99€ Non aveva sconti ulteriori purtroppo Mamma mia ragazzi questa credo che sia proprio la mia profumazione preferita in assoluto di bottega verde È buonissimo, è quel dolce speziato che mi fa impazzire Guardate come reagisce Umel Anche Umel preferisce vaniglia nera piuttosto che vaniglia normale Poi sempre a 3,99€ ho ripreso questo alla rosa Che non c'è da moltissimo C'era tempo fa Poi per un po' di anni non l'avevano più fatto Non so per quale motivo Adesso per fortuna è tornato Buonissimo anche questo Ok ho zoomato un pochino Poi ho preso due lavamani Questo al pepe rosa Che compro e ricompro da un sacco di tempo Ed è buonissimo anche nella formulazione bagno doccia C'è proprio tutta la linea peperosa mi piace Anche questa aveva il solito prezzo 3,49€ Quindi per ora di sconti particolari non ne vedo Poi ho voluto provare un prodotto della nuova linea all'avena Perché sono uscite delle linee nuove All'olivo, all'avena E poi ce n'è un'altra che adesso non ricordo Però i prodotti di questa linea non so come mai sono ancora più cari Ho notato che il bagno doccia da 400ml Nel formato di questi per intenderci Costava un euro in più dei soliti bagno doccia Per principio anche se tutta la linea era al 50% Io 5 euro per un bagno doccia Non li volevo spendere Per togliermi la curiosità ho voluto prendere il lavamani Che costa un pochino meno Credo che questo venga a 3,49€ Così insomma lo proverò E poi se mi piacerà tanto la profumazione Valuterò se è il caso di prendere anche il bagno doccia Questo è un lavamani extra dolce Con latte di avena Per pelli delicate o sensibili Qui c'è scritto che contiene il 98% di ingredienti di origine naturale 0% di parabeni, cessuoli di formaldeide, coloranti ecc E poi c'è scritto L'avena cresce rigogliosa nella nostra tenuta I suoi pregiati derivati Tra cui il latte hanno proprietà idratanti e lenitive Adesso per odorarlo ragazzi Farò una cosa che di solito non si deve fare con il lavamani Perché si fanno pasticci Spero di non sporcare il letto Il profumo è molto particolare Delicato Ma non so sinceramente se mi piace Lo devo provare poi sulle mani Sentiamo Hummel Sì a Hummel mi sembra che piaccia Guardate Sì a Hummel piace molto Se voi avete già provato queste nuove linee di bottega verde Magari scrivetemi sotto come vi siete trovate Se vi piacciono le profumazioni Poi e qui veniamo agli sconti Guido si è preso ben due Balsamo dopo barba Perché erano veramente super scontati Considerate che di solito vengono sui 15 euro Ed erano a 6,19 euro Questo al cedro selvaggio Con estratto di legno di cedro E questo al legno marino Che è il suo preferito Se volete fare un regalo al vostro ragazzo Insomma queste sono due profumazioni buonissime Io invece preferisco il cedro selvaggio Perché ha una nota un pochino più dolce Poi mi hanno mandato i soliti campioncini Crema a mani alla rosa Un fondotinta che io non uso Quindi darò a mia madre Uno shampoo doccia barberia toscana Questo lo proverà Guido Infine una crema shampoo senza schiuma nutriente ravvivante Poi c'era un omaggio a sorpresa E ho visto che mi hanno mandato una matita occhi Nella colorazione verde Io le matite occhi le uso pochissimo Quindi per ora credo che la terrò sigillata Sappiate che se fate un ordine in questo periodo Vi mandano un make up mystery A me è arrivata questa matita verde Però insomma magari vi possono arrivare delle altre cose Sono contentissima che non mi sia arrivato il solito mascara Quello che mandano praticamente sempre quando c'è l'omaggio mystery make up Perché a me non piace proprio Infatti lo regalo sempre alla ragazza di mio fratello La lasciamo a Umel Poi ci sono i soliti cataloghi Un altro mini catalogo con uno sconto Aspettate che lo apro Dentro c'erano altri due campioncini Goji perfect Trattamento antirughe intensivo Comprò retinol ed estratto di goji Poi un profumo gessomino notturno C'è questo mini catalogo della loro linea naturale Altre brochure E infine un codice sconto di 5 euro Che questa volta ho deciso di condividere con voi Perché io ne ho anche un altro di scorta Quindi sicuramente per il prossimo ordine ne ho già uno da utilizzare Questo lo lascio a voi Spero che metta a fuoco Comunque è CUP114DHS315 Ovviamente dovete fare sempre un minimo d'ordine di 20 euro Quindi ragazzi ricapitolando Io ho preso due bagno doccia Due lavamani Due dopo barba E la matita che era in omaggio Per un totale di 22,84 euro Ovviamente comprese le spese di spedizione Che non si pagano mai Salgo queste cose Così poi apriamo il pacco puma Io ho fatto quest'ordine tre giorni fa Ci ha messo veramente pochissimo Considerando che ho visto dal trekking Che hanno spedito dalla Germania Ho fatto quest'ordine perché da tempo Volevo comprarmi un paio di sneakers nere Me ne avevo parlato anche tempo fa E non ce n'è per tutti i mesi Chiedendovi consiglio Quando ho visto che avevano messo tutte le puma Con il fiocco al 50% Ragazzi ho fatto subito un ordine Ma adesso apro così vi faccio vedere le scarpe che ho scelto Sono ben due paia Preparatevi Rimballo è ottimo Ci dentro anche la fattura Le scarpe sono scatolate in questo modo Cioè guardate ummel Secondo me si sta chiedendo che cosa sono Ho preso due scarpe molto simili Ma in colori e materiali diversi Apriamole insieme Wow ma sono bellissime Guardate che meraviglia ragazzi Sono delle scarpe in vellutino Infatti si è scritto su head Con qui dietro il fiocco grande Sempre tono su tono nero Però ho fatto tipo il raso Umel intanto gioca con la carta Vedete che hanno la particolarità Di non avere qua le stringhe che si chiudono E a me questo dettaglio piace tantissimo Oltre a essere super super copolo Perché per tutte le persone pigre come me Queste scarpe sono un'invenzione geniale Cioè non dovete allacciare niente Infilate il piede e via È vero che io anche quelle superstar Nonostante ci siano le stringhe Tolgo il piede lo stesso senza selegarle Perché ormai hanno preso la forma Però così è una comodità in più Si vede che mi vanno perfette Guardate adesso su i leggings E sono senza calze però Come vestibilità sono perfette Io porto un 39 e di questo ho preso il 39 Nonostante in giro io abbia letto Che questo modello calza largo A me non sembra Mi sembra che calzino il vostro numero Provo anche l'altra Perché è sempre meglio provarle Tutte e due le scarpe Anche la sinistra è perfetta Le trovo molto molto carine Come scarpe sportive Perché comunque sono molto femminili Passiamo al secondo paio Quando ho fatto l'ordine io Sul sito c'erano ancora tutti i numeri Perché vi racconto come è andata Praticamente io avevo visto Su Zalando queste scarpe Però c'era soltanto il 38 e mezzo disponibile Non c'era il 39 Allora mi sono detta andiamo a vedere direttamente sul sito del brand Se è disponibile il mio numero Così ho fatto Ho trovato tutti i numeri Ho trovato che le spedizioni erano gratuite Mi sembra sopra i 70 euro Questo è stato un incentivo A farmene prendere un altro paio Questo è solo una meraviglia Sono un incanto queste scarpe ragazzi Il modello è come l'altro Però il materiale è completamente diverso Perché mentre le altre erano in suede Queste sono in pelle lucida Cioè tipo vernice Invece i dettagli che nelle altre erano in raso Qui sono in suede E sono di questo rosa antico Stupendo Queste saranno le mie scarpe per la primavera E sono contentissima di averle prese a metà prezzo Perché non vi ho detto che a prezzo pieno vengono 90 euro E io le ho pagate 45 euro Con 90 euro mi sono comprata ben due paia di scarpe Adesso vi dico come vestono Perché magari cambiando il materiale cambia anche la vestibilità E considerate che io sono sempre scalza Quindi poi le indosserò sicuramente con dei fantasmini Perché non mi piace metterle con delle calze particolari queste Ho fatto un po' di fatica a indossarle Forse semplicemente perché sono scalza Però una volta infilato il piede La vestibilità esattamente come le altre Forse tirano un pochino di più sui lati E considerate che io ho i piedi molto magri Se avessi dovuto scegliere un solo paio tra queste due Sicuramente sarei andata su queste È vero che ho altre sneakers bianche Ho le converse Ho un altro paio di puma bianche Sempre col fiocco Però il fatto che siano in vernice lucida E abbiano questo fiocco rosa Le rende perfettamente nel mio stile A questo punto provo anche l'altra Ditemi voi se non sono carinissime Queste sono state un super acquisto Sono contentissima Mentre quelle nere le vedo più modello invernale autunnale Queste sono più adatte ovviamente per la primavera e per l'estate Magari scrivetemi qui nei commenti quale vi piace di più E niente ragazzi più tardi vado a recuperare il pacco di Zara E poi vi faccio vedere anche quegli acquisti Quindi ci vediamo fra pochissimo Eccoci ragazzi sono passati due giorni dalla prima parte del video E io finalmente sono riuscita ad andare a ritirare il pacco di Zara Nel frattempo è arrivato anche un pacco di Feltrinelli Vabbè questo non ve lo mostro Magari se vi interessa vi potrò fare un book haul più avanti Perché io compro sempre un sacco di libri In questo periodo se prendete due libri della collana economica Feltrinelli Vi danno in omaggio la copertina E ovviamente Umel se ne è già impossessato Io ho preso questa di Alice nel Paese delle Meraviglie Non riesco a mostrarvela perché c'è un vino sopra Ed è super possessivo con le sue cose Spacchettiamo insieme il pacchetto di Zara Sono solo tre cosine ragazzi Quindi faremo in prezzo Io l'ho fatto arrivare in negozio perché in totale ho speso tipo 16 euro e qualche centesimo Quindi era assurdo pagare 4 euro di spese di spedizione per soli tre capi Sono tre capi primaverili direi anzi estivi E tutti e tre presi nel reparto Zara Kids Allora il primo è un vestitino che vedo qua essere stupendo Un vestitino in cotone ginsato molto molto morbido Prendo in mano la videocamera così ve lo mostro meglio E scende sopra il ginocchio Ha la mezza manichina però con le spalle scoperte Vedete com'è fatto con questi volant sempre sulle spalle Sembra molto molto carino Poi lo proverò Comunque questo se vi interessa sul sito almeno qualche giorno fa ho visto che c'era ancora E da 22,95 viene 9,99 Non sto adesso a mostrarvelo indossato però sicuramente ve lo vedrete indossato in primavera in qualche video Guardate un mino Aspettate che appoggio la videocamera Ok questo video è un caos Poi ho preso una semplicissima magliettina con le manichine lunghe E mi piaceva un sacco perché c'era questa stampa applicata Sembra quasi un foglio di un erbario dell'ottocento Guardate C'è super vintage Vedete com'è fatta bene? Ci sono proprio tutte le scritte sotto Sembra la riproduzione di un foglio di un erbario Credo che questa sia una peonia Però non sono sicura Magliettina in cotone con le maniche lunghe e ha questi volant sulle spalle E questa ragazzi da 9,95 Ricordo di averla pagata 3,95 Direi che è molto carina Hummel cosa dici? Guardate che musino serio che ha Hummel L'ultima cosa che ho preso è questo body rosso a costine Credo che sia 100% cotone Ha la chiusura in fondo con i bottoni Quindi sembra comodissimo L'ho preso sempre in taglia a 13-14 anni E questo da 7,95 L'ho pagato 2,95 Mi piaceva tanto per il dettaglio del bordino Vedete? Ha questo bordino bianco sia sul collo sia sulle manichine Guardate che carino Poi ovviamente va stirato perché adesso è tutto mezzo in dentro o mezzo in fuori il bordo Il materiale sembra molto morbido Sì c'è scritto che è 97% cotone Io ho pochi capi rossi nell'armadio perché non è uno di quei colori che amo Però per l'estate mi sembrava carino magari da abbinare a una semplicissima gonna di jeans Non so di quelle a vita alta con i bottoncini Sul sito non mi ispirava nient'altro Adesso non so se farò un ultimo round di saldi in negozio In quel caso magari vi farò un altro video haul Però allora i miei acquisti sono stati questi Niente ragazzi io e Hummel vi salutiamo Speriamo di avervi tenuto compagnia con questo video E se volete ci vediamo al prossimo